secondo me per chiarirsi cos'è la felicità occorre partire dal suo opposto cioè dall'infelicità l'infelicità è molto diffusa tutti la conoscono tutti la sperimentano tutti sanno cos'è l'infelicità è una sorta di insoddisfazione che ha come suo leitmotiv la sofferenza sofferenza che si manifesta o come ansia o come depressione questi sono i due poli dal punto di vista psicologico dello stato di sofferenza cioè di infelicità adesso la psicologia ha scoperto che uno stato se non costante ma frequente di ansia o depressione quindi di sofferenza e quindi di infelicità è in effetti uno stato patologico possiamo dire quindi che l'infelicità scientificamente è uno stato pato è una patologia in natura si dovrebbe essere felici e quindi se la felicità è il contrario di uno stato di sofferenza di ansia o di depressione possiamo definire la felicità come uno stato di serenità uno stato di serenità interiore noi lo definiamo uno stato di felicità e allora come riconquistare uno stato di serenità interiore grazie a tutti grazie a tutti